Un'aggiunta, forse una specie di confezione a quello che è stato detto, la figura dell'artista con la quale io ho sempre avuto un certo rapporto di stima nel momento in cui ho considerato da insegnante, da studente, da ricercatrice, gli artisti qualificati, noti del passato, comunque noti del presente e le persone che si ritengono tali senza, a mio avviso, personalissimo parere, avere le qualità per sentirsi e potersi promuovere come tali. Nel senso che sono piuttosto severa rispetto alla parola artista e a chi spesso e volentieri la usa in maniera poco appropriata. Essere artisti oggi, come in passato, pur cambiando molte relazioni con i mercanti, con gli artisti stessi, compagni di avventura lavorativa, ecco, non può essere fatalista. Intento di spiegarmi meglio. L'artista oggi deve sentire la responsabilità, oltre a avere delle qualità di grafico, pittore, insomma, rispetto alla tecnica, ai linguaggi che usa, perché il problema del linguaggio è e rimane sempre più importante oggi. Diciamo che l'artista deve avere la responsabilità, sentirla non come un peso, ma come qualità fondamentale per poter dire quello che sente di dire, ripeto, attraverso il linguaggio che sceglie, con grande lucidità e soprattutto non dimenticando che è una persona che si sta esprimendo, facendo delle scelte molto, molto precise, ma questo l'aspetto che non deve mancare, mettere a repentaglio se stesso, mettere in discussione se stesso e non creare, non produrre qualcosa che rassicuri. Se poi quel qualcosa che produrrà, emozionerà, rassicurerà, ben venga, ma secondo me l'artista oggi deve avere almeno una percentuale di messa in gioco per mettere a repentaglio, a discussione chi guarda, non deve rassicurare troppo. Questo mi piace aggiungerlo, ecco.